no bella a tutti ragazzi sono xpro e oggi in questo nuovo video volevo ringraziarvi i miei 140 iscritti all'incirca e di essere iscritti appunto al mio canale e oggi come regalo vi lascio un un piccolo GFX pack per personalizzare i vostri bc e i vostri roghi e anche le vostre intro se siete bravi con Sony Vegas a introdurre le immagini e farle fare in movimento che non è difficile ora io uno di questi farò un intro abbastanza professionale e ci proverò comunque tutti i ziii sono d'accordo e quindi presto farò anche un montage con il caldo di Black Ops 2 che verrà in 1080p sicuramente lo farò dare alla massima risoluzione e cerco di metterci peggio effetti tipo e ma non so se ci riesco perché è un po' difficile fare gli effetti con Sony Vegas e quindi proprio a rallenti cioè a rallenti tempo ok però boh vabbè vedrò io e e poi niente e in particolare vorrei ringraziare Mr.Crayonomatronix5 che mi ha aiutato molto con gli iscritti Futures Game HD e vorrei pubblicizzare anche appunto Futures Game HD che mi ha aiutato a prendere 20 20 euro PSN card grazie a un sito Epic Free Prices che è soltanto con un po' di smalegidimenti HTML sono una soluzione da superare la suburbia di merda e perché sennò non ce la fate voi e e quindi volevo pubblicizzare due e mortal mortal kevin mortal kevin vabbè io lo chiamo mortal kevin perché mi piace chiamando mortal kevin ma in realtà questo mortal kevin di cui parlo si chiama no the mortal kevin e e niente ragazzi questo video è finito e seguite i miei video mettete un mi piace a qualsiasi video che vi sia piaciuto e iscrivetevi se volete e visitate anche la mia fanpage di facebook fanpage fan ma dove sono e comunque bene ragazzi per questo video è finito ciao ciao al prossimo video bella g ciao 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 ciao